Dunque, vi devo raccontare come sono arrivato a concepire questa rilettura del continente, della grande madre terra che mi ha partorito, l'Europa, come sono arrivato a questa rilettura attraverso una serie di eventi che partono fin da quando ero bambino. Sono triestino, quindi sono figlio della frontiera orientale e ho scontato sulla mia pelle il fascino e anche la difficoltà delle radici plurali tipiche della mia terra. Mia nonna ha cambiato bandiera sei volte nella sua vita senza spostarsi dalla sua città, passando dall'impero austro-ungarico al Regno d'Italia, poi all'Italia fascista, poi all'occupazione nazista, poi all'occupazione jugoslava, infine al rettorato, al governo militare alleato anglo-americano, poi infine il ritorno del Regno d'Italia, poi l'Italia repubblicana. Quindi in realtà ha cambiato sei volte il suo status, se non addirittura otto se consideriamo anche quello che è successo all'interno dell'Italia durante il fascismo e alla fine della seconda guerra mondiale. Mio nonno, che non ho mai conosciuto perché è morto prima che io nascessi, ma la cui vita ho tentato di ricostruire in un libro dedicato al fronte orientale della grande guerra, ha combattuto in divisa austro-ungarica, mentre il suo fratello ha combattuto in divisa italiana in quanto irredentista sull'altra parte della frontiera. In sostanza si sono sparati tra di loro, anche se questo non è accaduto realmente, però si sono posizionati su trincee contrarie. Mia nonna era figlia di un ipote, di un boemo che era venuto giù a Trieste, ancora a Sburgica, per poi innamorarsi di una ragazza che vendeva della frutta sul bordo del mare, e da lì mise radici in questa città che divenne sua. Mio padre è cresciuto in Piemonte ma è nato in Argentina da genitori friulani e poi quando suo padre, lui aveva soltanto 5 anni, quando suo padre morì di crepacuore perché la banca argentina nella quale lui aveva deposto e sua cospicua fortuna era fallita, dovette tornare in Italia con la sorellina e la mamma che teneva per mano questi due orfani di padre, li riportò in Italia senza il becco di un quattrino ed erano così poveri che la nonna dovette dare mio padre in gestione alla sua sorella che aveva sposato un piemontese nell'astigiano. Quindi ho anche un po' di frequentazione piemontese che oggi si è consolidata con la presenza di uno dei miei figli che ha lavorato a lungo con Carlin Petrini a Bra e oggi lavora per un altro padrone in una situazione altrettanto interessante e legata alla sopravvivenza di questa nostra terra. Quindi declinate queste mie generalità complesse, posso dirvi che questo mio cammino verso Europa è cominciato molto presto perché al di là di questa percezione dinastica, io ho assistito fin da bambino al passaggio di profughi che sono stati i primi, quelli che arrivavano dalla vecchia Jugoslavia, dalla ex Jugoslavia, quindi istriani, dalmati ma anche croati e sloveni anticomunisti che furono cacciati per motivi ideologici, poi arrivarono i curdi, poi arrivarono i nigeriani, poi arrivò la grande ondata jugoslava dell'autodissoluzione della Repubblica Federativa finché arriviamo ai tempi d'oggi in cui questo tipo di immigrazione, sì sì, gli anni Ottanta e in quegli anni diciamo fino ad arrivare agli anni di oggi in cui sappiamo insomma che cosa accade, io in questi giorni, nell'ultimo anno mi sono trasferito in un paese di frontiera sulla Slovenia, in Slovenia e dalla mia casetta di campagna in un villaggio di un'ottantina di abitanti, io assisto quasi quotidianamente al passaggio di siriani e afghani che tentano di raggiungere l'Italia attraverso i boschi e contemporaneamente assisto quasi quotidianamente al flusso di cittadini e soprattutto di cittadine ucraine che fuggono dal teatro di guerra e si spingono alle nostre terre, quindi senza muovermi dal mio paese è come se io vivessi in un sismografo capace di recepire per la presenza stessa del confine tutta una serie di movimenti e di situazioni che anche avvengono molto ma molto lontano, stando a Trieste io ho assistito alla caduta della Iugoslavia, ho assistito alla caduta della Cortina di Ferro con molto anticipo rispetto a tanti altri colleghi che pure lavoravano per grandi giornali a Milano o a Roma perché proprio stando sulla frontiera certe notizie arrivavano per canali diversi non ufficiali molto prima che nelle capitali e quindi c'è stato questo, c'è stato il crollo della Iugoslavia e c'è stato adesso quello che sta accadendo sul teatro mondiale, sul teatro europeo. Finisco questa premessa, il mio primo libro è stato dedicato all'Europa, scritto nel 1989, cominciai a scriverlo quando fu chiaro che si stava sgrettolando l'impero sovietico e il libro fu scritto rincorrendo gli eventi perché man mano che lo scrivevo le cose andavano a una tale velocità che io non riuscivo a starci dietro, a quel punto fui obbligato ricordo ad avere una visione stereoscopica, guardare molto lontano rispetto a quanto stava accadendo, immaginare quello che sarebbe stato il futuro di lì a qualche anno e quindi la dissoluzione dell'economia sociale e l'instaurazione tirannica dell'economia di mercato. Questo fu chiaro fin da allora e fu già quello il primo dei miei libri, un libro profetico che conteneva la parola Europa già allora in copertina. Da lì cominciò un itinerario che mi portò attraverso una serie di eventi a una consapevolezza europea molto forte e il primo momento in cui questo accadde fu nel 1990, 91, 92, quegli anni in cui iniziò l'autodissoluzione della Jugoslavia e fu un momento in cui veramente ho visto per la prima volta invocare inutilmente il nome di questa nostra terra. L'Europa era nella bocca di tutti a Sarajevo, a Bagnaluca, a Zagabria, a Belgrado, ma l'Europa non venne. L'Europa lasciò che la frammentazione avvenisse senza mettersi di mezzo, ma soprattutto l'Europa perse l'anima in quegli anni perché accettò l'idea che la pacificazione, la pace potesse realizzarsi attraverso la separazione delle etnie, non attraverso la loro convivenza. L'idea che si potesse cantonizzare la Bosnia creò un vulnus all'interno dell'Europa perché credere a questo significava negare il principio stesso su cui si fondava la pluralità della nostra identità. Europa come luogo di incontro di popoli, di diversità, che come una grande orchestra suonano ciascuno il proprio strumento, ma l'insieme da un'orchestrazione unica al mondo. Allora per la prima volta io ebbi questa forte sensazione che l'Europa mancava alla propria presenza sul piano strategico, sul piano culturale e cominciai a riflettere sul fatto che l'Europa non sapeva narrare se stessa. Pensate che non esiste a Bruxelles, in questo enorme palazzo di vetro pieno di uffici, di specializzazioni, di funzionari, non esiste un luogo dove si coltivi l'immagine dell'Europa. Come la narriamo? Chi siamo? Da dove veniamo? Quali sono le nostre radici comuni? Questa cosa non c'è. C'è un vuoto profondo dal punto di vista culturale. Pensate per esempio, ragionate sul fatto che noi abbiamo le monete dell'Euro che non rappresentano visi di persone. Non c'è Voltaire, non c'è Dante, non c'è... mi lasci parlare però. Io parlo della moneta da un Euro. I visi sono quasi scomparsi, non ci sono mai stati, tranne nelle monete più piccole. Ci sono soltanto edifici, ponti, case e una rappresentazione priva di umanità di ciò che siamo. Quindi non abbiamo in qualche modo una rappresentazione di noi stessi all'altezza della nostra storia, all'altezza dei nostri passati, anche tragici. A quel momento, e qui chiudo questa mia premessa biografica, ci sono stati alcuni eventi importantissimi. Il più importante è stato nel 2008 il viaggio lungo la frontiera dell'Unione Europea, dal mar glaciale artico fino a Istanbul, quindi un viaggio praticamente lungo la longitudine, un viaggio verticale, che entrava e usciva dal confine dell'Unione Europea proprio per sondare attraverso quel grande sismografo degli eventi mondiali che è il confine, il rapporto che esisteva tra le due Europee, quella occidentale, l'Europa dalla bandiera azzurra con le stelle e l'altra metà dell'Europa dove cominciano le steppe e dove comincia il mondo ex sovietico. Fu un viaggio rivelatore perché già allora si capirono alcune cose. Capii in quel viaggio che io attraversavo una terra che aveva sofferto più di qualsiasi altra al mondo. Attraversavo quelle che Timothy Schneider ha definito le terre di sangue, blood lands, 30-40 milioni di morti provocati dai due totalitarismi, un numero incomparabilmente maggiore a quello della prima guerra mondiale, mentre in Europa occidentale è esattamente il contrario. Noi abbiamo avuto molti più morti nella grande guerra che nella seconda. Lì invece è stato il contrario. I morti civili sono stati una strage tra il 1935 e il 1945. E poi c'è stato ancora lo stalinismo e poi c'è stato comunque la dominazione sovietica. È stato un mondo di sofferenza e di dolore che ha segnato di sé la biografia di qualsiasi famiglia. Tutte le volte che noi abbiamo a che fare con questa fascia di territorio dobbiamo tenere presente che esiste nella gente un passato molto particolare, molto pesante, hanno il martirio negli occhi. Ma contemporaneamente si portano dietro una caratteristica tipica di quelle terre, tipica di una visione arcaica della nazione che facilmente scivola verso l'antisemitismo e il razzismo. Guardate il caos in cui sta avvenendo dal punto di vista etnico il reclutamento dell'armata russa in questo momento per la difesa del Donbass. Ecco, detto questo potrei raccontarvi ancora mille altre cose. Vorrei spiegarvi come sono arrivato a questa mia ricerca di Europa, non dell'Europa, ma di Europa come terra la cui essenza femminile e innegabile. E' cominciato nel 2016. Mi trovavo a Otranto per vedere la chiesa di Otranto e la cattedrale di Otranto che aveva disegnato sul pavimento uno dei mosaici più strepitosi del Medioevo, un albero della vita, le cui radici stavano a Gerusalemme e i cui rami andavano verso le terre del tramonto, verso l'Occidente. Era una sintesi in sostanza della storia del cristianesimo che arrivava dal Medio Oriente che giungeva fino da noi e mentre visitavo questo incredibile, veramente pieno di rami, di storie secondarie, albero della vita, mi arrivò la notizia per telefono che c'era stato un naufragio a poca distanza a Santa Maria di Leuca. E così presi la macchina, corsi sul posto, arrivai che faceva già buio e alla luce delle fotoelettriche sulla banchina del porto, non lontano dal faro che divide il mare Adriatico dal mare Ionio in un gioco stupefacente di schiume e di correnti, vidi scaricare da una motovedetta della capitaneria, un sacco bianco sigillato con una zip che poi seppi contenere il corpo di una donna etiope incinta che era stata scaraventata in mare dagli stessi scafisti che avevano tra l'altro riservato lo stesso trattamento ad altre donne del barcone e accanto a questo corpo disteso sulla banchina stava in piedi in un lago di lacrime un palombaro che pure aveva visto del mattatoio del mare tutto il peggio. Di fronte a quell'immagine che mi folgorò non potei fare a meno di chiedermi che cosa aveva visto quell'uomo duro che pure conosceva il peggio del mare, che chi era quella donna chiusa in quel sacco? Ed allora cominciò, andò avanti per settimane, persi il sonno perché quel corpo che non conoscevo, di cui ignoravo l'identità, imparai seppi soltanto molto tempo dopo facendo ricerche d'archivio, seppi che era un etiope, ma quel corpo, quel nome, quella donna mi chiamava la notte e mi diceva devi darmi un nome, un volto e una voce. E il volto, il nome e una voce mi arrivò alcuni mesi dopo, non per via anagrafica, ma per via simbolica, attraverso un successivo incontro casuale, puramente casuale, come il primo, quando a Porta Empedocle, dove mi ero recato semplicemente per vedere i luoghi di Montalbano, i luoghi di Camilleri, ero in vacanza e seppi che una grande nave di soccorso di una ONG tedesca, si apprestava a scaricare alcuni centinaia di richiedenti asilo, provenienti in gran parte dalla Siria e dall'Egitto e dall'Afghanistan. Vidi stendere una passerella, uscire dalla barca una fila di fantasmi in un odore terrificante di vomito e di cherosene, l'elemento olfattivo è importante perché non compare mai quando vedete queste cose in televisione, e in mezzo a tutti questi uomini che indossavano un giubbotto di salvagente giallo, c'erano anche molte donne, molte, non tante, una ventina circa, gli uomini erano circa 250. Queste venti donne, forse 15, non lo so, vennero separate dagli uomini e fatte sedere su una piattaforma di cemento che casualmente era coperta di un telo blu. Quando queste donne istintivamente, quasi per celebrare l'arrivo in Europa, si disposero in cerchio, come per guardarsi per la prima volta serenamente negli occhi e dare un contenuto rituale a questo loro sbarco, un istintivo contenuto rituale a questo loro sbarco, io vidi, attraverso questi loro giubbotti gialli su campo blu, disegnare la bandiera dell'Unione Europea, senza che loro lo sapessero. Già quello fu un colpo al cuore, cioè lì mi si delineò la totale continuità della nostra storia, cioè nei millenni l'Europa era stata formata di popoli che arrivavano da lontano, da Oriente e da oltremare. Cosa c'era di più magnificamente evidente di quel disegno, di quelle stelle in campo giallo, femminili, che disegnavano in cerchio su campo blu. Ma il colpo al cuore definitivo mi arrivò quando una di queste donne, il cui volto non potrò mai dimenticare, se la incontrassi per strada dopo tanti anni la riconoscerei senza dubbio alcuno, era un volto semita, un volto molto nostro, molto, poteva essere una siciliana, con questo naso lievamente arcuato che hanno gli abitanti d'Oriente e il volto era come una moneta diviso in due parti. Una parte esprimeva dolcezza, accoglienza, maternità, l'altra parte mostrava il dolore ma anche la dura determinazione a farcela. C'era qualcosa di profondamente femminile in questo, la mia esperienza nel campo dei profughi mi ha insegnato che in questi traslochi di popolazione, in questi sradicamenti, la donna si adatta infinitamente prima del maschio e quella donna rappresentava diciamo questo ideal tipo femminile a cui mi ero già abituato per esempio durante la guerra in Jugoslavia quando furono i bosniaci o i croati o altri ad arrivare dalle nostre parti. Le donne si adattavano prima e lei era l'ideal tipo di tutto questo e questa donna a un certo punto iniziò a cantare. Cantò a bassa voce qualcosa che poi alcune delle altre donne ripeterono in coro e fu un canto che riassumeva contemporaneamente, non so come, era un abbinamento miracoloso, riassumeva in sé il dolore dell'abbandono della propria patria, la memoria di radici perdute e contemporaneamente la speranza se non la determinazione di nidificare su una terra diversa. Ecco quel canto diede la risposta e diede un nome, diede una voce, diede un volto a quel corpo che avevo trovato sulla banchina di Santa Maria di Leuca pochi mesi prima. E fu allora che cominciai a riflettere sul fatto che quell'episodio non faceva che rinnovare un evento mitologico che era venuto migliaia di anni prima e che era riassunto dalla traversata via mare della principessa Europa, figlia del re di Tiro a Genore che viene rapita dal re degli dèi, trasformato in toro e portata in occidente verso le terre del tramonto, verso le terre dove il firmamento si inabissa nell'Atlantico, in quelle che i greci chiamavano il giardino delle esperidi. C'era in quel passaggio da oriente, dalla Siria all'Italia, c'era il ripetersi eterno di qualcosa che era sempre avvenuto. E quando guardai negli occhi le rappresentazioni di Europa nei mosaici antichi, quando riguardai, ripassai a memoria l'iconografia dedicata a questo grande evento fondativo del nostro continente, vidi negli occhi di quella donna del mosaico gli stessi occhi e lo stesso profilo della donna di Porto Empedocle che aveva dato il nome al corpo morto di Santa Maria di Leuca. E lì tutto si chiarì. E lì cominciò una riflessione su qual era il messaggio di questo mito. Il mito parla di una ragazza che scende, figlia di un re, una bella giovane figlia di un re, che scende sulla spiaggia del Mediterraneo, nell'antica Fenicia, oggi Libano, per raccogliere degli asfodeli assieme alle proprie ancelle. E non si accontentava della bellezza alla prassitele, del marmorea bellezza alla prassitele delle idee che stavano con lui nell'Olimpo, aveva bisogno di carne umana, di carne mortale, forse perché, per lo stesso motivo per cui certe volte, secondo me, il buon Dio ci invidia, perché noi essendo mortali abbiamo un gusto della vita che ci fugge molto superiore a chi ce l'ha a disposizione per sempre. Quindi forse è questo che cercava Dio in lei, il Dio in lei. E si trasforma in un giovane toro bianco, quindi un toro animale focoso, ma che in quell'occasione si dimostra un animale estremamente mite, gioca con lei, si rotola sulla propria schiena, la tira verso di sé, si lascia carezzare, si lascia mettere dei fiori sopra le corna, poi si lascia cavalcare a un certo punto e alla chetichella scende verso il mare, arrivato nel quale parte Arazzo, seguito da una corte di tritoni e di delfini e in un mare di schiume attraversa il Mediterraneo verso la prima grande isola dell'Occidente che è Creta, che è tra l'altro l'isola dove Giove è stato concepito, quindi un ritorno alla terra di sua madre in sostanza. E lì copula con la ragazza che darà vita a una stirpe che attraverso le varie leggende di tori, di incesti, di minotauri eccetera, arriva fino a noi. Che cosa ci dice questo mito? È una domanda che mi sono fatto dopo questo incredibile episodio di Porto Empedocle. Che cosa ci dice questa ragazza che assomigliava tanto a quella siriana che cantò quella canzone indimenticabile? Ci dice prima di tutto che Europa è femmina. Quindi ci riconduce alla femminilità di un mito in cui il protagonista non è Giove. Troppo facile. Giove, lui che l'ha sempre vinta, Giove che ha gli dèi della sua parte. No, la protagonista è lei, è questa ragazzina che non sa dove questo pazzo la sta portando, non sa come finirà la sua avventura, che chiede aiuto agli dèi, ma gli dèi non la aiutano perché sono complici del toro. È lei la protagonista. Quindi la prima cosa che ci dice questa storia è che noi apparteniamo a una mitologia femminile. E non è fuori di luogo ricordarlo oggi che l'Europa è schiacciata da mitologie maschiliste che vanno dal grande signore delle steppe che cavalca a torso nudo e manda in questo momento decine di migliaia di giovani russi al massacro in una inutile guerra in Ucraina e dall'altra parte abbiamo la mitologia del maschio cowboy suprematista pistolero che ha a disposizione tutte le armi del mondo e può sparare a chi vuole e contro chi vuole. Ecco, quel mondo non appartiene a Europa. Europa appartiene a un'altra cosa. A che cosa appartiene Europa? Europa. Secondo elemento di questo mito, Europa è asiatica. È una cosa che Salvini non si sentirebbe dire molto volentieri, ma Europa è figlia, è asiatica come è euseatico Cristo. È figlia di un mondo dove si parla, si parlava la lingua del Salvatore, l'aramaico. Europa è benedetta dagli dèi. Se è vero che un Dio si scomoda per scendere a terra per annusare odore di donna mortale, per farsi carne in lei, quindi significa che noi apparteniamo a una terra che è interpretata al femminile e una terra unica al mondo. Ci rendiamo o no conto, io lo dico spesso ai miei nipotini quando mi chiedono cos'è l'Europa, che noi apparteniamo a un'isola felice circondata da un mare di infelicità. Abbiamo questa percezione? O forse ce lo siamo dimenticati? O forse a ricordarci questo sono soltanto i migranti che ci guardano come sogno irraggiungibile? Nel libro di cui vi parlerò alla fine di questo mio sproloquio c'è una definizione. Europa è il sogno di chi non ce l'ha, non di chi la abita sazio da secoli. Noi abbiamo perso la percezione di vivere in un luogo unico al mondo dove bene o male non finisci in galera per le tue idee, dove hai un sistema di garanzie, dove si spende nella sola Europa, pensate, si spende metà del welfare di tutto il mondo e qui capite perché l'Europa è un'anomalia che noi dobbiamo difendere dalle aggressioni di un capitalismo saccheggiatore che vorrebbe che noi togliessimo di mezzo questa nostra identità. Tutto indica che va in questa direzione. Quindi coscienza di essere parte di un mondo molto particolare, benedetto in qualche modo dagli dèi. Se voi tornate in aereo anche dall'Africa o dall'Asia vedete che improvvisamente il paesaggio da giallo diventa verde e la monotonia cede il passo alla pluralità, alla continua cambiamento. C'è un addensamento di diversità e di bellezza che noi ci siamo disabituati a vedere. Cioè l'Europa è un luogo dove da un campanile vedi un altro campanile, dove da una torre vedi un'altra torre. È una terra camminabile, misurabile, mentre voi arrivate da terre così sconfinate che ti scoraggiano soltanto a vederle delinearsi all'orizzonte. Ma il mito d'Europa ci dice anche una cosa. Senza il Mediterraneo questa storia non si sarebbe potuta scrivere, quindi dal punto di vista mitologico noi non esisteremmo se non ci fosse il Mediterraneo. Quindi ricondurre l'Europa alla sua essenza mediterranea significa ricordarci che noi apparteniamo al mondo della filosofia e della democrazia che è nata qua. E ci ricorda anche la parola Europa che vuol dire, viene dall'antico lingua mesopotamica Erebu, da cui Erebo in greco che significa l'oscurità, significa il mondo della notte, il mondo dove il sole tramonta, non Asia, Asia, Asu, che significa l'Oriente, il luogo da cui il sole viene. No, noi apparteniamo al luogo dove il sole va a morire. Quindi l'Occidente siamo noi e io non permetto che siano altri popoli al di là dell'oceano a considerarsi Occidente, mentre l'Occidente reale siamo noi. Noi siamo il capolinea dei popoli. Per millenni i popoli sono arrivati dall'Asia o dall'Africa settenzionale per finire in questo grande finisterre dove mai nessuno per millenni è arrivato dall'Atlantico. Quindi in questo momento ricordare un'appartenenza mediterranea di fronte a un pensiero medio, a un mainstream che ci obbliga a dichiararci solamente atlantici è una mancanza di orgoglio delle nostre radici. In questa ultima campagna elettorale non faccio politica. Non ho mai sentito in questo un po' servile declinare appartenenza e vicinanza e fedeltà atlantica. Non ho mai sentito declinare una fedeltà europea. Io appartengo prima di tutto all'Europa e come tale rivendico una mia identità e come 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 identità anche un pensiero che mi obbliga a intervenire in questa situazione sciagurata per portarla a una normale mediazione. Che cosa significa il pensiero mediterraneo? Ve lo riassumo in una frase di Eschilo. Allora questa frase è stata scritta da Eschilo dopo la vittoria di Salamina in cui la piccola Grecia ha sconfitto l'Asia. Ecco, quindi i vincitori, lui da vincitore scrive, i vincitori si salveranno soltanto se rispetteranno gli dèi e i templi dei vinti. Non è la frase di uno sconfitto, è la frase di uno che ha vinto ma che già guarda oltre e qui si delinea la grande figura risolutiva di un personaggio che è raccontato non sempre nel modo giusto, quella di Alessandro Magno, che è stato il primo grande europeo, forse l'unico, che è andato incontro all'Oriente per creare con l'Oriente non più una conquista ma uno sposalizio. Ecco, e poi c'è l'ultimo elemento, l'ultima grande rivelazione che ci dà questo mito è che alla fin fine Europa è la capostipite di tutti i migranti perché, ripeto, è una donna che attraversa il Mediterraneo con paura senza sapere quale sarà il suo destino. Non sa se arriverà viva ma alla fine porterà sangue nuovo alla terra del tramonto che essendo un capolinea ha continuamente bisogno di essere rifecondata perché altrimenti decade e si invecchia. Questo è un po' il quadro della situazione. Bene, detto questo, l'idea di riscrivere questo mito, già alla fine del 2016 si era impossessata di me, ma lì altri eventi mi hanno attraversato la strada, molto importanti, ed è stato, il primo è stato nell'aprile del 2017 il referendum di Brexit, cioè gli inglesi per la prima volta decidono a stretta maggioranza di staccarsi dall'Europa, cosa che ha sorpreso tantissime persone e che ha fatto sì che un mio carissimo amico, proprietario di una barca antica di nome Moia, una barca del 1910 che aveva fatto due guerre mondiali, aveva persino recuperato i soldati inglesi alla grande disfatta di Dunkerque, mobilitandosi assieme a migliaia di piccole barche da turismo inglesi per trasportare gli inglesi e i francesi intrappolati sulla battigia all'inizio della seconda guerra mondiale. Questa barca incredibile, lui di cui era proprietario, mi disse, gli inglesi sono impazziti, vogliono sputare sul corpo della loro madre, usò questo termine perché gli era già chiaro il fatto, questa identità tra il corpo di Europa come donna e la realtà fisica di Europa come territorio, questa equivalenza gli era ovvia perché era anche un grande lettore, un grande interprete della cultura classica, lui insegnava greco e latino in un college inglese, italiano, amico mio caro italiano, ma insegnava greco e latino in un college inglese ed era proprietario di questa barca e mi disse Paolo dobbiamo rifare il viaggio di Europa per insegnare agli inglesi che cosa si perdono rinunciando al Mediterraneo. Ebbene in quel momento io mi trovavo già in Libano perché andavo alla ricerca di orchestrali libanesi da aggiungere a un'orchestra europea della quale mi occupavo da alcuni anni e che aveva questa caratteristica di selezionare ogni anno decine di giovani nelle varie capitali europee per costruire ogni anno un'orchestra nuova e quell'anno mi era venuta l'idea aggiungiamoci anche qualche libanese per mostrare agli italiani o ai tedeschi o ai francesi dove facevamo i luoghi dove facevamo la tournée che noi venivamo da lì, venivamo dal Libano quindi aggiungere questi violinisti, questi trombettisti o trombonisti libanesi del Medio Oriente era funzionale a questa mia idea. Ebbene la richiesta di fare il viaggio di Europa mi arriva proprio mentre sono in Libano a Beirut a due passi da tiro il luogo dove era avvenuto il rapimento di Europa. Di lì a poco tempo è arrivata la barca e abbiamo compiuto un viaggio nel Mediterraneo sulle rotte di Europa e a bordo di questa barca antica che aveva più di un secolo ormai perché eravamo nella primavera del 2017, la barca era del 1910, la barca aveva 107 anni barca di legno pesante, materna con una magnifica inerzia, una barca che in questo libro è descritta tantissimo. Partiamo e inalberando una bandiera inglese abbinata provocatoriamente a una bandiera europea blu con le stelle gialle. Il semplice fatto di entrare in un porto con una barca del genere, con una ciurma che parlava diverse lingue, c'era un greco, c'era un turco, c'era un inglese, c'ero io che ero italiano, c'era questo amico mio che era ormai un inglese adottivo, questa ciurma multilingue, l'antichità della barca e la provocazione contenuta in questa doppia bandiera faceva sì che ovunque andassimo il discorso cadesse sull'identità di Europa, sul luogo dove stavamo andando, su che cosa stavamo cercando, su chi eravamo, qual era il nostro destino, cosa sarebbe accaduto nei prossimi anni, non c'era porto in cui non si scatenasse una tempesta di pensieri sul nostro destino. Lì il viaggio fu fertile di immagini, riempì tacquini e tacquini di incontri, di paesaggi, ma anche c'era sempre in sottofondo la memoria del grande evento mitologico che aveva completamente cambiato la mia vita in quel gennaio del 2016 a Santa Maria di Leuca. Quando il viaggio finì, io raccontai su Repubblica la realtà di questo viaggio, di questo zigzag alla ricerca di Europa, ma evitando ancora di affrontare il discorso del mito, il capitano della barca morì per una malattia irreversibile. Il giorno dopo avermi scritto l'ultima lettera in cui mi ringraziava dell'emozione vissuta del materiale raccolto, dei filmati che avevamo raccolto e che furono proiettati post mortem della sua Inghilterra, proprio per dare un estremo segnale di europeismo al suo paese, al suo paese adottivo, e la morte di Piero, che poi nel libro diventa un greco di nome Petros, fu per me, mi obbligò a quel punto a realizzare il libro in cui avrei riletto il mito d'Europa calandolo nel Mediterraneo di oggi. Quindi la è una storia che ne viene fuori, che è stata scritta in modo un po' folle, forse da ubriaco, lo so, forse in versi endecasillabi contenuti all'interno di ciascuna capoverso, ogni capoverso è composto diversi endecasillabi proprio per in qualche modo creare la fascinazione del ritmo mitologico della Grecia antica. La trama della storia è molto semplice, c'è un gruppo di moderni argonauti, tutti di una certa età, tutti barbuti, che decidono di concedersi un viaggio alla ricerca del nome perduto di Europa. L'Europa, si rendono conto, ha talmente perso il senso di sé da dimenticare persino il proprio nome, anche perché nel nome è contenuta la sua essenza. Persa l'essenza si perde anche il nome. E così, sull'onda di alcune reminiscenze scolastiche e mitologiche, partono nel Mediterraneo, via mare, con questa barca veneranda, alla ricerca del nome. E mentre stanno banchettando sulla spiaggia del Libano, in un bar, bevendo, mangiando dei mezze e sorseggiando del rakhi, vedono una ragazzina che ha le stesse caratteristiche di quella siriana che cantò quella canzone a Porta Empedocle, il viso tagliente a due facce come una moneta, vedono arrivare questa ragazza che mostra loro il largo e mostra un foglio con un tratto rabescato dove c'è scritta la parola Europa. Non capiscono se è il suo nome o se è la destinazione, ma non intuiscono che quello è il nome che stanno cercando. Però di fronte alla determinazione di questa ragazza, il fatto che porta sul suo corpo i segni di percosse, di sevizie, decidono di prenderla a bordo, di portarla via. Lei non ha documenti, quindi è clandestina a tutti gli effetti, ma loro per proteggerla diventano a loro volta clandestini. E il viaggio può essere riassunto in una dozzina di versi che ora vi reciterò a memoria, anzi se qualcuno ha il libro poi potrei anche leggervi una parte, ma è riassumibile la storia così. C'era una volta, molti anni fa, non ricordo più quanti, si era perduta la parola Europa e una vela salpò per ritrovare quell'antico trisillabo celeste, come soffiava il vento quelle notti. La barca navigò per molte lune, finché una sera giunse dall'Oriente una rondine esausta che ci chiese un nido dove prendere riparo. Il suo confine era l'orizzonte, ma le ali ferite le impedivano il volo. E fu così che noi le offrimmo un riparo, una vela e il vento giusto per ritrovare la rotta perduta. In cambio, lei ci regalò il suo nome. È un nome di cui loro non si rendono conto immediatamente. In questo viaggio in bilico tra i pericoli di un Mediterraneo dell'oggi, cioè il mare delle guerre, il mare dei naufragi, il mare del riscaldamento climatico, il mare degli incendi e delle burrasche e contemporaneamente il mare eterno degli dèi e della grande bellezza. In questo viaggio si rendono man mano conto che la ragazza non è anagraficamente la loro figlia, ma è in realtà la grande madre. E quindi scatta in loro un desiderio di protezione e di sacralità. E il clou della storia è quando Giove, che non rinuncia a ripetere la sua performance, si impossesse della ragazza in sogno. Una notte dopo che la barca si è aggettato l'ancora su un vecchio pontile malandato dell'antica città greca, della città fantasma di Cnido, oggi Turchia, nel punto di contatto tra l'Egeo e il Mediterraneo d'Oriente, il luogo dove il vento cambia, dove le navi greche una volta andavano a calafatare le proprie chiglie. Quella notte la ragazza torna in barca prima degli altri, gli altri sono ancora fuori, attorno a un fuoco che si raccontano storie. Lei torna, si addormenta e Giove, lei sogna che la barca si trasforma in un toro, che il toro la porta lontano e la possiede dopo essersi ritrasformato in Aquila, che è il simbolo reale degli dèi. Ma quando la mattina dopo la ragazza si sveglia, si accorge che il suo corpo è mutato, si accorge di aver vissuto una specie di immacolata concezione in cui la sua pelle ridiventa liscia, i segni delle sevizie sono scomparsi e sente crescere in lei qualcosa di grandioso. Quindi non si accorge ancora di essere incinta, ma sarà più tardi la luna a dirglielo. Quando la ciurma sbarca in un'isoletta greca e sopra di loro la luna compare all'interno di uno squarcio delle nuvole di un biancore himalaiano, la luna sussurra alla ragazza sei incinta. E in quel momento tutto il Mediterraneo si rende conto che qualcosa sta accadendo e per esempio i tremila monaci del Monte Athos si inginocchiano, neri, barbuti, davanti all'icona della grande madre che guarda un po' alla stessa faccia di questa ragazza. la Madonna come lei si inchinano e rendono omaggio alla bellezza di colei che è la grande madre. E poi la storia si conclude non nell'isola di Creta ma si conclude in, si conclude oltre lo stretto di Messina, quindi si conclude in Italia, in un luogo molto vicino a quello in cui io avevo visto il primo manifestarsi di questa intuizione mitologica su Europa. E lì la ragazza scompare, a quel punto scompare perché l'istinto materno la comanda di andare in terraferma. E quando il capitano si sveglia e vede la sua cucetta vuota e vede che il barchino di salvataggio è a terra e che quindi lei è fuggita, si butta a nuoto gridando il suo nome, la chiama ma lei non risponde e in quel momento vede un'immagine che gli spiega tutto, vede uscire dall'acqua a fatica una testuggine marina che ignorando la presenza umana a fatica va verso la sabbia asciutta e calda per deporre le uova stringendo gli occhi per la fatica. Ecco di fronte a questa immagine di questa posizione delle uova da parte di una femmina venuta dal mare, in questo caso una testuggine, l'uomo capisce che l'istinto della maternità ha vinto nella donna e che se n'è andata anche per risparmiare a quei quattro argonauti la fatica del dire addio, il dolore di dire addio, si è presa lei in carico tutto il peso della separazione. A quel punto i quattro cominciano a discutere sul motivo di questa scomparsa, ognuno dà la sua spiegazione, qualcuno dice addirittura siamo stati presi in giro fino adesso da una donna che ci ha usati soltanto per arrivare fino qua, ma non è questa la verità, la verità è la sa soltanto la barca, la vecchia barca che con la sua pancia materna è stata la placenta, l'utero all'interno del quale questa ragazza ha potuto ripartire da zero e ricominciare una nuova vita in un'altra terra e la barca sa che lei non è scappata ma semplicemente è ritornata nel mito da cui era provenuta. Europa uscita dal mito ha vissuto con dei mortali per un pezzo di strada per insegnare loro il nome e il destino della loro terra e poi di nuovo ritorna nei millenni da cui è provenuta. A questo punto scende la malinconia nella ciurma e il capitano sceglie di restare da solo, di non sbarcare mai più, sceglie di viaggiare pescando a traino, butta via i documenti, butta via il telefono, diventa irreperibile, qualcuno vede passare questa mitica vela rossa a distanza guidata da un uomo che ormai è diventato grifagno, è tutto segnato dal sale, dal sole e sembra indifferente al mondo, vedono questa vela rossa e tutti si chiedono chi è questa vela mitologica che attraversa il Mediterraneo e non si ferma mai e se si ferma è soltanto nei luoghi appartati dove non c'è nessuno per raccogliere delle erbe, per pescare, per sostare, per prendere acqua dolce, ma lui da quel momento scompare dagli schermi radar. Finché a distanza di anni, e qui la storia finisce, il narratore rievoca questa storia, questo viaggio incredibile avvenuto molti anni prima, ma il momento in cui avviene questo ricordo di quel viaggio unico al mondo, l'Europa già non c'è più, l'Europa si è persa, l'Europa nuovamente, nonostante il segnale partito da quella donna, si è persa nuovamente. Ma il relitto della vecchia barca viene trovato sulle sponde della Spagna e recuperato dai figli di lui, che dicono adesso noi rimettiamo in mare la vecchia barca per vedere se si può ricominciare. Gli danno questa notizia, gli scrivono una lunga lettera dall'Inghilterra dicendo ti ricordi tu che ci hai tenuto in braccio su questa barca quando eravamo bambini, ritorna a farci visita e guarda che forse tutto può ripartire da zero, forse non tutto è perduto. Il richiamo alla situazione politica di questa Europa silente di questi mesi è palese. E lì il vecchio argonauta che ormai ha dieci anni in più rispetto a quelli che aveva durante il viaggio racconta, riassume la propria avventura alla fine del libro, sempre con una cadenza di versi, recita un magnifico epitaffio per il capitano che non c'è più, tu che vai senza bagaglio, lo chiama, tu che riposi insieme alle carene e ai fumaioli sul fondo del mare, venga per te una maschera micenea, lo richiama, lo evoca come se fosse un grande eroe greco, ma contemporaneamente ricorda questa bambina, questa ragazzina che hanno avuto a bordo, di cui tutti erano segretamente innamorati e ricorda di lei una frase che io ho tratto da una persona che mi è stata detta realmente e che è uno dei più belli auguri che si possono fare a uno scrittore, cioè quando lui ricorda questa sua abitudine a prendere continuamente appunti, a tenere sempre un taccuino in tasca, ad annotare qualsiasi dettaglio del diario di bordo, di viaggio, questo suo meticoloso, un po' giornalistico, un po' diaristico attaccamento al quotidiano, ricorda che la ragazza lo prendeva un po' in giro e gli diceva ma perché scrivi continuamente su quel tuo taccuino? E allora io rispondevo, ma per non dimenticare rispondevo, e allora lei se vuoi che la memoria non si perda, lascia passare il vento tra le righe. Questo è l'ultimo verso della storia, è la raccomandazione che fa Europa allo scriva, quindi al narratore, per dirgli ricorda che le parole hanno un'energia pazzesca, ricorda che non devi restare attaccato alla loro superficie sillabica, ma devi lasciare che il vento e lo spirito in qualche modo le attraversi e ne tiri fuori l'energia nascosta. Questa è una raccomandazione che chiunque scrive libri, ma soprattutto chi scrive libri in versi, dovrebbe fare. Voi mi direte perché mi sono preso in carico di scrivere questo libro in modo così anomalo, perché era l'unico modo di rendere l'antichità, il ripetersi di questa storia che si rinnovella sempre, ogni giorno, nel nostro mare, ma non soltanto nel nostro mare, anche nelle grandi pianure d'Oriente che vedono arrivare profughi dalle terre infelici dell'Est. Ed è stato un lavoro, e qui questo è un piccolo finestra su quello che è il retrobottega del lavoro dello scrittore, è stato un lavoro che si è realizzato soprattutto di notte, perché è solo di notte che la mente è chiara, è incredibile come il buio schiarisca la mente, ed è incredibile come la prima parte del sonno, che è quella più sostanziosa, quella che realmente ti dà quel surplus di riposo che ti consente di ricominciare, si concentra nelle prime ore del sonno. In quelle prime ore del sonno tu abdichi completamente alla tua razionalità, esci dagli schemi della vita quotidiana, della vita diurna, dal suo frastuono, dal suo eccesso di luce. Di notte tutto diventa diverso, si mette in moto la parte irrazionale di noi. E questo è amplificato anche da un fatto fisiologico, e cioè che durante la notte, in quelle ore, soprattutto fra le tre e le cinque del mattino, il nostro fegato secerne la bile, che è la madre di tutte le nostre emozioni, in modo particolare. Qualsiasi medico lo sa, i filosofi orientali lo sanno da sempre, che il centro delle nostre emozioni non è il cuore ma il fegato. Ebbene, in quelle ore uniche al mondo, in questa parentesi, in questo squarcio, questo buco nero circondato dalla razionalità della vita quotidiana, è il momento più propizio per riuscire a trovare, per far passare il vento tra le righe e per dare alla parola quella armonia che oggi, nel tempo dei social, di internet, eccetera, rischiamo di perdere irrimediabilmente in tutte le cosmogonie del mondo. In principio non sta il logos, qualcosa di logico, no, logos significa l'armonia della parola pronunciata con la propria voce. Noi sottovalutiamo la potenza mostruosa che abbiamo a disposizione attraverso la nostra bocca, la nostra lingua, i nostri polmoni e quindi il richiamo al verso è anche un richiamo all'oralità che dovrebbe essere alla base di qualsiasi creazione poetica, libresca o letteraria che sia. Io avrei finito. Avrei voluto anche leggervi qualche pezzo del libro ma non me lo sono preso e non ne vedo delle copie intorno per cui. Ok, sì, ma magari siamo già oltre come tempi. Ditemi voi se c'è ancora un po' di tempo, se volete farmi delle domande anche sui dettagli. Sì? 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 Ah, sì, sì, ho visto. Sì, sì, sì. Allora. Sì, vi posso leggere una mezza pagina in cui potete capire meglio il ritmo della navigazione. Il ritmo della navigazione, il ritmo largo della navigazione e del vento che riempie le vele di questa barca antica. La grande vela rossa come andava su quella prateria di bianche schiume. La prora scavalcava i meridiani con balzi siderali ad ali aperte tracciando un'ostinata ipotenusa. Una pattuglia di suri spumeggiava in una bacinante controluce e ubriaco di mare l'armo aurico barcollò sulla sua vecchia carcassa. L'aria aveva effetti esilaranti. Fumo obbligati a ridurre la vela mentre appariva l'arnaca al traverso. Incrociamo uno slup delle bermude così velocemente che si fece appena in tempo a scambiare un saluto. O Petros, tu felice in alto mare, le onde declamavano il tuo nome, luccicavi di perle di sudore sullo scalpo ribelle dei capelli al vento incandescente della Libia. Quaranta miglia percorse in sei ore. Il sole ci sferzava le fiancate, incanutendo le barbe della ciurma, e fu un'impresa tenere il timone. Con l'anima incollata alla sua ombra, la barca schiaffeggiava l'onda bruna. «Quanto lontani siamo dalla Siria?» chiedeva senza sosta la fuggiasca. «Ormai siamo da giorni in mare aperto», rispondevo. «Ma lei sempre inquieta. Siamo abbastanza lontani da casa?» Si replicava un po' a caso, ma lei ci vietava di essere imprecisi. Non mollava la presa fino a quando non le davamo risposte coerenti. «Dimmi, perché la distanza da Rodi aumenta invece di diminuire?» Tormento, non sfinirci di domande. Si innervosiva il francese al timone. Di bolina sono cose che succedono. Soltanto allora viola la ragazza usciva fuori a sedersi tra noi. Al cielo degli olimpi preferiva gli inferi più ombrosi della barca, che abitava felpata come un gatto. L'azzurro la inquietava, e soprattutto il bianco calcinato delle coste. «Lei, figlia della luce, era abitata da un'ombra tale che soltanto un cielo di piombo, si intuiva, avrebbe reso quell'ombra, per contrasto, meno buia». Ecco, questo è un po' che vi dà la cadenza, il ritmo. Ho cercato un po' di evidenziare la crasi che esiste tra un verso e l'altro, anche all'interno del capoverso, che qui però troverete in continuità. Quindi prendete questa storia come se fosse un manoscritto trovato tra i rotoli del Mar Morto, scritto con una lingua un po' diversa dall'italiano di oggi, una lingua antica, ma anche una lingua che ha una sua musicalità che esige da parte vostra la lettura ad alta voce. Grazie. 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 Grazie.